io mi fido di te non guardo primo di tre giorni e mezzo uno dei posti più belli d'italia ovvero la toscana basso della cisa conquistato veramente tanta 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 roba il mare che finalmente finalmente sei tornato at the beach andiamo direzione Castelnuovo di Garfagnana andiamo molto bene buongiorno ragazzuoli siamo al secondo giorno quindi un nuovo benvenuto a questo nuovo video bentornati sul nostro canale direzione Castelnuovo Garfagnana passo della Betone e scendiamo su Lucca dove ci fermeremo a Magna poi ragazzi ha piovuto qui nei piano quindi terremo un'andatura umile siamo poi in viaggio verso Monteriggioni che sarà la tappa finale di stasera che per chi è amante di Assassin Creed è appunto il luogo sacro di appunto Ezio Auditore Enco che io devo dire ad Assassin Creed ci ho giocato forse due volte molto male ma non ho mai avuto la PlayStation sono un bambino speciale effettivamente non hai mai avuto la PlayStation non hai mai giocato ai Pokémon però giocavo a Dragon Ball che bella questa strada ma la Garfagnana è bella è un bel posto la Garfagnana va aspetta ma va che roba aspetta clickbait cioè finiamo dentro il carro che porta ai marmi di Carrara qua c'è il camion quella madonna guarda i marmi di Carrara mamma mia che spettacolo veramente tanta tanta roba c'è una diga zio che bello non si può andare sopra si 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 scende da qua oh cazzo è cascato no non a lui è successo a te con la mia moto e capita ogni tanto lo so altro visto siamo sulla strada che ci condurrà al passo della betone aspettami sta arrivando ci sono ci sei sono sono dietro di te se riesco a starci allora visto che sei dietro di me possiamo aumentare il ritmo mai 1388 metri dove stai andando ciao ciao aspetta sento già il tumore all'amianto che mi sta venendo saluta tarzan the king of the mountain mi caga nessuno la salita è stata un gioco da ragazzi scendere sarà dura e che qua la roccia è tutta frenabile ma porca miseria porca miseria porca miseria che ore sono sono le 12 e 21 quindi per le due saremo a lucca tesi quindi foto diritto fatta gita fatta adesso ci dirigiamo verso dove andremo a magnà vedo l'ora ci fermiamo a far benzina no mi sa che cosa c'è scritto solo a banconote no facciamo a lucca dai ma che bello bellissimo qua ragazzi mamma mia ma che roba è sta strada zio mamma mia ma che bello qua ma scusa si scia qua e mi sa ho visto prima impianti robe si vedi noleggio schifo vabbè raga direi che dopo l'avettone queste belle furvette ci vediamo direttamente a lucca quando ti arrived quando ti arrived tu avevi un tempo a me 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 Grazie a tutti Stiamo lasciando la ridente località di Lucca Vado E ci dirigiamo verso Monteriggioni Passando per i Colli Toscani Bene Mentre eravamo sulla strada per Monteriggioni Il buon Davide ha proposto di fermarsi in questo casolare abbandonato su un colle toscano E io gli rispondo ovviamente Ma che bella Bene raga Adesso Da questi ruderi Stiamo provando a andare esattamente La strada sterrata Con delle moto Con le ruote lissie E siccome Dobbiamo fare solo delle foto Non avrei fatto un video Però Siccome so che magari qualcuno Magari salta fuori un bel titolo clickbait per questo video Tipo Zana si sdraia sullo sterrato Questa scena è da riprendere Aspetta che sono Un attimo in difficoltà Ok Ti sento anzi mare Madonna Siccome Noi siamo temerari Adesso andiamo Madonna come finisco giù nel burrone In cima a questa collinetta In cima a questa collinetta Per fare due foto di merda Ma la cosa divertente È che l'idea È venuta a me Lici Stai a destra Stai a destra Vai 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 Bravo Vai 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 Dovevo andare Quanto cazzo siete lì? Io mi sembra di aver visto un cartello Questa cosa Dopo la dobbiamo fare anche in discesa È tanta roba No ma la cosa divertente Dopo sarà girare le moto Ma io vado là a girarla zio Adesso vi faccio vedere Arrivo Posso avere un aiuto? No Io ho paura È easy Ho paura di finire ciò Ah vabbè ma è facile Eh che cazzo ti ho detto? Ma non andate via Ti lasciamo lì Aiuto Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Bellissimo Voglio rifarlo Torniamo indietro? No Che bella la Toscana La cosa divertente È che manca ancora più di un'ora Per arrivare a Monteriggio All'hotel Ok raga Finalmente siamo tornati In strada Dopo aver fatto Un cicinin Di motocross Siamo entrati Nella vera Toscana Quindi adesso Su questa bella curva Con tanti sassi Niente Siamo in marcia In direzione Borgo Toiano Tipo qua Toiano Toiano Io sto pensando Ad una cosa Dimmi Al fatto che dopo Per andare a Monteriggioni Dobbiamo fare Sta strada qua Di notte E non c'è Mezzo lampione Con i cinghiali Che ti sbucano Mentre Ma proprio Nell'entroterra Siamo Questo Hotel Relais Arrivati Che figata Hotel Con piscina Grandi Raga Grandi Ciao Anca Di notte